brava bravissima questo lavoro che stiamo facendo va a aiutare il cane a prendere familiarità con le buche vuote anche quelle brava tippi praticamente la buca vuota l'ho lasciata aperta la buca piena vi faccio vedere il montaggio video poi comunque si vede qui l'ho chiusa era vuota mannaggia che sfiga quante buca vuole è quello brava topina molto brava quink è un cane non vedente ho fatto un visto già preso grande caso quindi anche per il già preso per cui la buca vuota attendiamo che se ne accorga lui anche perché quando siamo in natura poi se lui non sviluppa questa competenza abbiamo un cane che ci apre tutte le buche vuote bravo bravo bravissimo vedete che mano a mano è sempre più rapido ad accorgersi che il tartufo è stato preso paradisi non día grazie